in collaborazione con Cari amiche e cari amici della Pallamano benvenuti a Hannibal Time come si suol dire la stagione sta entrando sempre più nel vivo siamo a 5 giorni dall'inizio della Final 8 di Coppa Italia lo scorso sabato si sono giocate partite imprevedibili, molto importanti per la classifica, iniziamo per gradi partiamo dal derby al totesino con la vittoria del Bolzano a Bressanone una vittoria da autorità il bellissimo pareggio del Pressano che recupera il conversano riesce a pareggiare fuori casa mantenendo la seconda piazza il Merano dei giovani senza Starcevic e Pavlovich fa un partitone contro il Trieste conduce dal primo fino a quasi all'ultimo minuto e perde a 3 secondi dalla fine con un finale trilling parleremo di questo e di tanto altro della sconfitta anche delle ragazze di Ubi Nessing a Doderzo dicevo parliamo di questo e di tanto altro con i miei ospiti vado subito a presentarli Michael Guffler ciao Michael ciao Valda ben arrivato, bentornato finale trilling ho detto poi lo commenteremo comunque penso che voi come dirigenti possiate essere soddisfatti di quest'ultimo mese della vostra squadra sì, siamo molto soddisfatti devo dire dei ragazzi hanno fatto hanno cambiato molto bene in bene ci hanno dato ragione anche le ultime partite ovviamente adesso vediamo gli ultimi 10 secondi dell'ultima partita non è andata a buon fine però devo dire sono molto molto orgoglioso della squadra e andiamo avanti così salutiamo Lamberto Giongo presidentissimo del Pressano che hai praticamente adesso ti accinge a questa finale di Coppa Italia da vincitore del trofeo grazie Valte dell'invito grazie a tutti i telespettatori niente sì ci affrontiamo la Coppa Italia da detentori quindi per noi è una cosa molto inedita non l'esperienza della Coppa Italia perché per fortuna per bravura dei ragazzi qualche anno che la facciamo e quindi l'esperienza non ci manca però evidentemente da avendo il tondino come si dice sul cuore è la prima volta che lo facciamo quindi niente speriamo in bene vediamo vedo che i ragazzi ci sono e quindi saranno gli altri che dovranno venire a scucirvelo e voi niente noi noi ce la metteremo tutta per cercare di difenderlo questo titolo e quindi vediamo entriamo nel vivo vediamo i risultati della sesta giornata del girone di ritorno grazie all'ultima regia vediamo Gaeta vince vittoria importantissima 21 a 18 sul Fondi giocato la domenica anche qui ci associamo anche alle condoglianze giocava il Fondi giocava senza le alpe la scomparsa improvvisa del papà per cui condoglianze anche da parte di noi di Hannibaltheim poi il pareggio importantissimo si diceva con Versano 25 a 25 poi vedremo le immagini dopo nove vittorie consecutive un pareggio che sa di vittoria però poi Merano Merano Trieste 22 a 23 anche qui vedremo il Merano senza dicevo diversi titolari con Stricker che si è rotto il ginocco poi ci dirai magari come è messo anche lui va in bocca al lupo perde in casa il Bressanone che primo tempo ha giocato bene davanti 6 a 1 alla fine il Bolzano con un grande volare vince ha vinto 30 a 25 il Fasano che ha regolato il Siena 30 a 25 stesso risultato ha vinto in casa però poi il Bologna sorpresa vince 26 a 25 con il Cassano quindi riapre il discorso quarta piazza e poi il Colonia che batte il Cingolo inguaiandolo sempre di più perché a questo punto il Cingoli ha 4 punti dalla terza e ultima piazza vediamo la classifica Bolzano 34 Pressano 30 Conversano 28 Cassano 24 Fasano 23 diciamo fin qui si giocano le prime 4 piazze il Trieste che ringrazia il Merano da 17 si trova a 19 Bressanone 16 poi guardate che ha Mucchiata Merano Siena Fondi Colonia 15 Ghetta 14 Cingoli 10 e il Bologna che vince e arriva a 8 una situazione di classifica Gufo le prime 4 diciamo detto bene le prime 5 per i 4 posti e poi c'è una bella corsa insomma si è visto dall'inizio della stagione che è andata avanti così anche molto molto stretto diciamo anche il Bolzano adesso 4 punti di vantaggio però come ho detto già prima sono molto curioso della Coppa Italia perché veramente quest'anno come non mai è molto vago e non saprei neanche dirti chi alla fine la vincerà poi c'è una mucchiata sui 15 punti purtroppo anche noi lì però anche lì sarà dovremmo vedercela con le prossime partite che saranno molto molto impegnative Lamberto per voi una classifica che vi sorride nel senso che questi due punti dicevi prima vi consentono di rimanere davanti e avere lo scontro diretto a favore assolutamente avremmo fatto credo molte firme per raggiungere il risultato che poi il campo ci ha consegnato al di là delle possibilità anche se alla fine potevamo anche quasi quasi chiuderla a nostro favore però l'importante era mantenere il vantaggio dei due punti in ottica playoff perché a sto punto sarebbe assurdo nasconderci che sono molto vicini e quindi conta tantissimo visto anche il regolamento previsto per la struttura dei playoff è molto importante essere secondo rispetto al terzo per tantissimi fattori fattori economici fattori di disponibilità del tempo dei ragazzi perché noi dobbiamo sempre fare il conto che i tre quarti lavorano anzi di più di tre quarti quasi tutti e quindi abbiamo non è finita assolutamente però abbiamo quel mattoncino in più rispetto anche se io considero che la partita fondamentale sia per noi che per il conversano per fortuna cioè spero che i cugini di Merano ci facciano lo stesso la stessa cosa che fanno a noi lo facciano al fasano quindi quindi tutti e due dobbiamo andare a Merano io la considero la giornata fondamentale la giornata la partita fondamentale per il secondo posto anche perché il Merano a Pressano aveva fatto di aver messo in grossa difficoltà noi l'abbiamo tirata insieme forse questa è la caratteristica nostra quest'anno c'è anche l'esperienza perché piano piano un anno dopo l'altro diventano anche un po' più vecchiotti però come il vino magari maturano bene quella partita lì forse vi ha girato il campionato eravate lì venivate da una fase altalenante vincere recuperando sei gol di scarto poi avete indovinato il filotto dopo abbiamo avuto solo quella di Gaeta poi in realtà che ha avuto le sue vicissitudini perché è una trasferta un po' strana lunga abbiamo recuperato durante la settimana quindi aveva il suo perché anche quella partita beh niente noi ripeto ben venga un campionato così vediamoci anche rapidamente gli altri due campionati che abbiamo la grafica partiamo dalla 2 maschile qui vediamo appunto il Tirol 37-29 sulla seconda squadra del Bressanone il Campo Tures che vince col Mezzocorona 29-16 il Mezzocorona era in ripresa ha vinto due partite ovviamente il Campo Tures in casa ha fatto valere il proprio fattore campo poi il Malo 25-20 sul Crenna Lappiano che continua a vincere 28-22 sul Molteno 26-25 del Vigagio sul Cassano Magnago rinviata poi l'HMT contro il Torre vediamo la classifica la classifica di Ciappiano 33 Tirol che comunque fuori classifica 31 Cassano 26 Molteno 24 Campo Tures 17 assieme al Vigagio via via tutte quante le altre qui l'abbiamo già detto Lappiano vincerà probabilmente questo girone poi c'è la lotteria della promozione la lotteria della promozione diciamo che dovrebbero essere due squadre su tre gironi che fanno la promozione ho visto che anche il Sassari ha perso se non sbaglio nell'altro girone quindi ha rimesso un po' in discussione col Parma quindi Lappiano noi ci auguriamo di averlo per molteplici fattori ma sicuramente è una delle squadre favorite al passaggio di turno vediamo la classifica la 1 femminile qui si giocava un incontro molto importante l'Oderza contro il Brixen Salerno 32-16 sul Leno il Salerno ormai ha ingranato la quarta sta andando via abbastanza a mani basse Brescia 24-22 sul Cassano il Casal Grande che vince a Dossobuono 27-18 e l'Oderza che dopo un primo tempo equilibrato erano 8-8 poi ha avuto la meglio sulle ragazze di Ubi Nessing per 24-17 e il Ferrara 29-24 sul Flavioni vediamo la classifica qui le ragazze delle Bressanone pagano ormai sono staccate il Salerno 28 l'Oderza 27 il Brixen 23 Dossobuono 15 Casal Grande 14 via via tutte quante le altre Gufo ne abbiamo parlato Ubi l'ha già detto il mio miracolo il nostro sogno l'abbiamo già fatto la terza piazza comunque a questo punto è in ghiaccio si può dire poi ci sarà la Puls Cudetto si hanno un bel vantaggio sul quarto posto e penso che farà bene il Brixen conoscendo Ubi fino alla fine di stagione poi alla fine ci saranno bene ancora i risultati positivi però devo dire complimentarmi con loro perché veramente nessuno avrebbe pensato dei risultati del genere della squadra femminile di Brixen all'inizio però brave stanno giocando senza straniera ricordiamo l'abbiamo detto più volte loro stanno giocando tutto il campionato per scelta senza una straniera no? merita merita e gli sta dando anche ragione vediamo ecco siamo arrivati al momento del primo servizio filmato si giocava il derby a Bressanone Bressanone il Bolzano era reddice del pareggio contro il Merano invece il Bressanone veniva dalla bella vittoria casalinga col Bologna andiamo a vedere come sono andate le cose grande prestazione di forza della capolista che soffre in avvio ma poi finisce per espugnare il fortino del Bressanone per 30 a 25 un successo che ha nelle parate di Mate Volarevic l'artefice principale partono meglio i ragazzi di casa che si portano subito a condurre in avvio Fatner compie alcuni interventi prodigiosi e di suoi riescono ad allungare sino al 6 a 1 dell'undicesimo minuto il Bolzano non ci sta e comincia la rimonta una doppietta di Alilcovic tra i migliori in campo riduce subito lo svantaggio i padroni di casa tengono comunque il campo con autorità e mantengono il vantaggio al ventunesimo Basic riporta i suoi sul più 3 10 a 7 a questo punto sale in cattedra il numero 1 bianco-rosso che abbassa la sala cinesca e con un parziale di 6 a 1 la capolista ribalta il risultato chiudendo avanti la prima frazione sul 13 a 11 in avvio di ripresa segna subito Udovicic ma una doppietta di Crespo rimette il Bressanone in carreggiata sul 13 a 14 il Bolzano gioca bene tutti girano a meraviglia Alilcovic e Sonnerer sono i terminali offensivi di una squadra che si intende a meraviglia un parziale di 8 a 1 mette di fatto fine al match a metà tempo sul 22 a 14 mister Svorsek si può permettere di ruotare tutti i suoi effettivi risparmiandoli per la Coppa Italia traendo delle buone indicazioni un po' da tutti in particolare da Hannes Inerebner Superbo in difesa ed autore di due reti in contropiede da Johnny Matà e da Muck Pircher a dimostrazione che tutta la rosa sta entrando in forma nel finale è Accademia con delle belle reti di entrambe le squadre con i padroni di casa sorretti dal calore del proprio pubblico che accorciano sino al 25 a 30 rendendo meno pesante la sconfitta abbiamo iniziato male un paio di tiri sbagliati dopo dieci minuti abbiamo cambiato qualcosina in difesa e poi insomma siamo riusciti a raddrizzare la partita chiaramente Mate oggi è stato di nuovo super insomma ci siamo preparati un pochino per la Coppa ma solo prima di Merano perciò lì sapevamo che ci poteva essere un calo le partite precedenti non eravamo ancora in quella condizione come ad ottobre per esempio adesso speriamo di essere a posto per settimana prossima e di poter dire la nostra poi a Trieste oggi avete dimostrato che le ultime partite un po' in difficoltà oggi si è visto un grande Bolzano ma soprattutto un grande Mate Volarevic che hai chiuso la porta sì grazie mille Walter devo dire grazie a Brixen per una bella partita complimenti per loro non abbiamo giocato primo tempo primi 15 minuti un po' di male difesa ma dopo siamo fatti ricoprire tutto e abbiamo vincito questo è importante adesso fra 5 giorni rincontrerete il Bressanone a Trieste sarà un'altra partita sì questo è un'altra partita secondo me per un altro mondo dobbiamo preparare il nuovo tutto guardare questa partita vediamo dove sbagliamo questo preparare secondo me diciamo vediamo siamo partiti come ce l'aspettavamo e ci siamo allenati bene diciamo l'attacco mi è piaciuto molto molto la velocità la grinta il cambio di posizione molto bella anche la difesa molto dura siamo stati molto contenti con i primi 20 minuti poi sicuramente ci manca un po' anche l'esperienza e anche la panchina di giocatori che sanno girare da tanti anni e quindi diciamo la filosofia di una palamana velocissima non è ancora da fare da 60 minuti con questi giocatori purtroppo anche sono un po' deluso oggi perché mi aspettavo aspettavo un altro risultato una partita più sputtata non posso dire nulla perché Bolzano ha una squadra bellissima forte e anche ha tanti cambi rispetto alla Coppa il prossimo venerdì ho visto sono sicuro che lo Duca Giorgio e gli altri hanno preparato hanno sistemato tutto perfetto e mi aspetto una Coppa d'Italia bellissima anche disputata perché a una partita posso vincere qualunque e adesso non ti posso dire un vincitore vinto il derby adesso avete una settimana di tempo cinque giorni per il vostro primo appuntamento stagionale come arriva al Bolzano questo appuntamento come arriva abbiamo vinto diciamo il primo derby visto che settimana prossima di nuovo incontriamo il Brixen penso che oggi abbiamo dimenticando i primi dieci minuti quindici minuti abbiamo giocato ha fatto una bella partita abbiamo risposto bene anche se siamo partiti malissimo e penso che quello non ci possiamo permettere né nelle prossime partite contro Brixen né sperando di passare avanti il turno parlando di Coppa Italia arrivate appunto a Trieste è il vostro primo obiettivo stagionale ovviamente arrivate come la capolista e la squadra da battere no penso che in questo momento tranne qualche piccolo infortunio sono tutti al 100% siamo preparati ci stiamo preparando adesso per la Coppa abbiamo una settimana di tempo la preparazione l'abbiamo già fatta adesso niente bisogna solo scendere in campo e giocare come sappiamo giocare ecco abbiamo visto le immagini di questo derby Lamberto fra 5 giorni si rincontrano assolutamente partita chiusa scontata pronostico scontato secondo te il Brestanone io ho visto che la Coppa Italia non è mai non solo le partite come il campionato perché chiaramente è la prima e quindi sono ancora freschi perché per esempio io credo che sia l'handicap per tutti quanti sia quello di fare tre partite non siamo abituati quindi arrivi alla fine magari un po' più stanco dipende dalle partite quindi già il primo derby potrà capitare il Bolzano è favorito lo capisco benissimo però l'incognita sta sempre dietro l'angolo credo quindi niente vedremo Gufo per te pronostico chiuso o aperto questo derby a Trieste io penso che vinca il Bolzano sarà una partita dura sicuramente analizzeranno la partita che hanno fatto penso che però se torna Gaeta che è un fattore importantissimo per il Bolzano dovrebbe vincere il Bolzano il personale non si sa mai cosa fa è sempre una squadra imprevedibile però rimango che vince il Bolzano quindi siamo arrivati al momento del primo stacco pubblicitario diamo la linea alla regia e poi torniamo in studio eccoci nuovo in studio prima di vedere le immagini del derby della partita per il secondo posto Gufo tu hai incontrato sia a Pressano che a Conversano a Conversano avete vinto a Pressano avete perso di pochissimo vedremo poi le immagini tra le due secondo te chi vedi favorito per il secondo posto o lì veramente non so cosa dirti perché hanno tutti e due dei bravi giocatori l'ultima partita hanno pareggiato non saprei forse vedo un pochettino avvantaggiato il Pressano però è molto molto difficile è stata una bella partita è stata una bella partita anche vediamocela e poi la commentiamo insieme al presidente un pareggio che sa di vittoria la pallamano Pressano CR Lavis esce con un punto d'oro dal Palas San Giacomo di Conversano nello scontro diretto contro i pugliesi di Mister Tarafino il big match tra seconda e terza forza della Serie A1 si è rivelato tale soltanto nella ripresa ma al termine di una partita incredibile sono stati i gialloneri ad uscire dal campo col sorriso sotto pesantemente nel punteggio per lunghi tratti del match i ragazzi di Dumnic hanno agguantato proprio nel finale il pari che permette alla squadra trentina di mantenere due punti di vantaggio sui pugliesi con gli scontri diretti in favore giallonero in avvio di gara gialloneri totalmente fuori fase Conversano penetra come preferisce in attacco e ben presto gli ospiti si trovano sotto 5 a 1 un parziale pesante che non spaventa comunque la squadra trentina a turno il team giallonero comincia a segnare dopo una lunga serie di errori e torna a farsi sotto sull'8 a 6 ma è solo un fuoco di paglia perché Conversano con un ispirato Sperti si riporta avanti 11 a 6 al ventesimo qui ancora reazione giallonera con un break di 0 a 4 che accompagna la partita sulle ali dell'equilibrio mantenuto anche sulla prima sirena 16 a 13 in favore dei locali il secondo tempo è vietato ai deboli di cuore la difesa di Pressano comincia finalmente a funzionare ed in attacco nonostante qualche errore dai 6 metri i gialloneri sono precisi quanto basta per tornare sotto il primo aggancio della partita è firmato in seconda fase da Dallago che firma il 18 a 18 dopo 10 minuti e poco dopo arriva anche il primo vantaggio 18 a 19 ancora di Dallago Conversano attraversa una fase di sbandamento e perde un altro pallone ma Di Maggio sbaglia il contropiede del possibile più 2 e i pugliesi pareggiano si assiste ad un continuo tira e molla con Giongo che si divora nuovamente il più 2 dal momento di confusione escono meglio i padroni di casa abili a dare un colpo di reni grazie alle parate di Di Gian Domenico dal 25 a 23 del 27esimo emerge però Simone Bolognani che mette il turbo Dantino pareggia su rigore ad un minuto dalla fine poi la difesa e San Paolo fanno i miracoli e Pressano porta a casa il 25 a 25 sfiorando la vittoria allo scadere Dadovic Dantino ma è finita è finita Presidente certo che il gol di Dantino era un gol del mese quello era un gol del mese ma avremmo chiuso anche la questione del secondo posto cioè chiaramente diventava un gap quasi in sormontaglio perché diventava per noi tre partite quasi di vantaggio però torno a dire se fosse stato prima della trasferta io l'avrei firmato sottoscritto sicuramente un pareggio perché ci permette di guardare dall'alto un pochettino per dura che sia ancora perché non è guardate che il campionato l'abbiamo visto è un campionato unico a 14 squadre ha fatto tantissime sorprese quindi nulla è scontato però la prima sorpresa abbiamo visto il Bologna che vince contro Cassano assolutamente lo stesso Merano che pareggia a Bolzano il Gaeta che pareggia a Bolzano vince a Trieste prima parlavamo che Merano ha fatto sudare tutti le squadre non più forti le squadre che perlomeno sono più in alto in classifica e mentre ha lasciato i punti decisivi l'ha lasciato con le squadre non voglio infierire però voglio dire la realtà e questo è il campionato unico il girone unico che dà la cosa quindi sicuramente questa è una bella esperienza e farà crescere la palla a mano se si continua così abbiamo chiamato di Merano abbiamo parlato prima abbiamo adesso non per mettere il dito nella piaga però abbiamo il video degli ultimi secondi qui abbiamo appunto gli ultimi 20 secondi Merano palla in mano magari Gufo ce lo commenti tu che l'hai visto se lo stiamo vedendo avete la palla avete tolto il portiere perché avete l'uomo in meno giusto qui mancano 15 secondi alla fine c'è Luca Stricker lo scarico verso Max Max prende il tiro il portiere para e poi chi è che praticamente c'è questo lancio che oggettivamente poteva mancavano 2 o 3 secondi fa male però d'altro canto tu mi dicevi fa anche bene vedere la squadra che ha regito così sì come ti ho detto prima potevamo benissimo vincerla ci stava il pareggio di sicuro l'abbiamo persa di una di una rete nel modo peggiore pensabile perché veramente ho visto i ragazzi proprio collati però devo dire ho visto dalla reazione anche subito dopo il spogliatoio che non c'era nessun nessuno è stato incolpato di aver fatto un errore abbiamo visto subito le cose positive tutti i giocatori veramente che hanno giocato come ho anche detto senza Starcic e il nostro straniero tutti i ragazzi giovani hanno fatto una gran partita fino al cinquattrotesimo che è veramente il primo minuto dove eravamo un gol sotto e poi è finita così purtroppo dalla panchina tu forse chiedevi ai giocatori di prendere un fallo sì ci sono adesso dopo si può sempre si hanno sempre tante risposte come si poteva fare non fare ovviamente se si riusciva a prendere un fallo da 9 metri in quella situazione sarebbe stato utile però ho detto ripeto sono molto molto contento e fiero dei ragazzi che hanno fatto una gran partita e penso anche il pubblico subito dopo ci ha dato un feedback molto positivo soprattutto anche mi è piaciuto vedere che alcuni giocatori del Trieste sono venuti da me e ci hanno fatto le congratulazioni dicendo anche che avremmo quasi meritato noi di vincere e quello diciamo parla per sé penso chapeau Lamberto anche un dirigente che anziché colpevolizzare l'allenatore o un giocatore che ha 18 anni che si è preso anche la responsabilità di tirare a sette secondi della fine anche perché ho sentito adesso che mancavano di Starcevic e Pavlovich quindi non è non è da poco cioè sicuramente per una squadra abbiamo anche abbiamo anche perso Stricker questo è un tempo che purtroppo a proposito si faccio gli auguri si è fatto male ai ginocchio e fino alla fine della stagione non ci sarà più anche con la sua assenza poi abbiamo reagito bene abbiamo continuato a star lì scusami no no tranquillo ma è fatto bene anche ricordare perché è sempre brutto dopo dover anche ricordare dei ragazzi che ci l'ammettono tutte purtroppo fa parte del gioco però hanno dei problemi fisici e quindi gli facciamo tanti auguri per la buona ripresa ecco questo è il momento di parlare di Coppa Italia introduciamo il capitolo appunto Coppa Italia vedendoci un servizio di presentazione poi vedremo la griglia partiamo col servizio di presentazione è ormai alle porte l'assegnazione del primo titolo nazionale dell'anno 2019 al Palacchi Arbola di Trieste da venerdì a domenica sarà infatti in campo la final eight di Coppa Italia per la 34esima edizione della Kermesse un'edizione di lusso nel tempio della palla a mano italiana che vedrà in campo le migliori otto squadre nazionali attesa tanta battaglia e tanto equilibrio come sempre avvenuto nelle ultime stagioni fin dal venerdì giorno dedicato ai quarti di finale il parquet triestino infatti si infiammerà nella parte alta del tabellone i due derby attesissimi terranno banco ad aprire le danze alle 14 sarà la super sfida tutta pugliese fra Conversano e Fasano i biancoverdi di Tarafino vanno a caccia del primo titolo dopo 10 anni ma dovranno vedersela coi cugini campioni d'Italia in carica a rischio in campionato e dunque chiamati al tutto per tutto verso la Coppa stesso lato del tabellone per lo storico derby alto attesino fra Bolzano e Bressanone fin qui in stagione due vittorie in due incontri per la squadra bolzanina che proprio sabato scorso ha espugnato il campo brissinese a Trieste però sarà partita secca tutt'altra storia e Bressanone ha l'ultima chance stagionale per dimostrare le proprie qualità mentre Bolzano vuole tornare a vincere parte bassa del tabellone per un pressano mostratosi in grande forma nell'ultimo periodo i gialloneri di Dumnic detentori del trofeo saranno chiamati a superare il Fondi in una gara secca dove tutto può accadere chiuderà il quadro dei quarti di finale la squadra di casa il Trieste che affronterà i lombardi del Cassano Magnago entrambe le formazioni sono in un periodo difficile della stagione ed hanno tutta l'intenzione di giocarsi il classico jolly verso la coccarda tricolore soprattutto Trieste davanti al pubblico amico cercherà di superarsi per dare la caccia ad un titolo che il blasone più famoso d'Italia non vede da più di 15 anni certo che è veramente una bella una bella griglia magari vediamo c'è la griglia perché poi volevo fare ecco vedendola così Gufo ti dico Bolzano-Bressanone con Bersano-Fasano sembrerebbe che il Presidente fa gli scongiuri ce l'ha sulla carta più semplice per arrivare in finale però ci dimostra la Coppa Italia l'anno scorso voi col Bologna avete faticato faticato il primo turno per poi vincere meritatamente la Coppa come vedi chi vedi sicuramente? la Coppa Italia è una cosa a parte perché si fanno diverse partite in pochi giorni e lì devi vedere la panchina devi vedere gli infortuni devi vedere l'andamento di ogni singola partita ti dico avvenendo così mi sembra che il Pressano il Pressano abbia la prima partita più facile penso che anche il Bolzano vinca contro il Pressanone il Conversano vincerà probabilmente contro il Fasano Trieste Cassano sarà molto sì vai avanti il Trieste perché gioca in casa e poi io penso una finale Bolzano Pressano Bolzano Pressano Lamberto tu me l'auguro a questo punto vabbè Pressano ecco soprattutto dopo dall'altra parte vabbè qualcuno deve arrivare per forza Bolzano chiaramente è la favorita noi veniamo da detentori e quindi cercheremo di fare l'impossibile per mantenere questo titolo evidentemente anche dalla nostra parte pur pur ammettendo che qualche piccola possibilità in più ci sia però il Trieste gioca in casa e quindi quando si gioca in casa Cassano è una squadra imprevedibile Fondi l'abbiamo visto anche l'ultima partita che ha battuto Fasano nettamente quindi non c'è nulla di scontato perché ripeto la Coppa Italia confermo quello che dice Gufo è una cosa a sé stante l'anno scorso il Bolzano ha battuto le due pugliesi tu giocavi nel Bolzano siete arrivati in finale magari come ho detto soppando tante più energie insomma siamo arrivati proprio alla fota lì eravamo mi ricordo bene abbiamo giocato abbiamo una volta rigori poi alla fine contro il Pressano si è proprio visto che c'è un calo fisico e loro hanno continuato a giocare nel loro modo e poi hanno vinto meritatamente e anche quest'anno si vedrà nelle prime partite chi faticherà di più alla fine si sentirà bene lo sforzo Cambiamo argomento eravamo a Bressanone sabato abbiamo incontrato Ralf De Iaco e abbiamo fatto una chiacchierata con lui ascoltiamocelo Ralf De Iaco buonasera che derby abbiamo visto oggi si abbiamo visto un derby squilibrato poco poco squilibrato e Borgiano ha avuto tutte le ragioni per vincere è una squadra più forte è una squadra più professionale questo si vede Bressanone ci ha messo tutto il cuore ha iniziato bene ma poi quando ha dovuto sostituire giocatori eccetera si è visto che abbiamo la panchina molto corta e non potevamo vincere Ralf approfitto della tua presenza perché si sta parlando ormai da tanto di questo progetto Handball City Roll da uomo di sport da ex presidente federale da massimo esponente dello sport brissinese ti chiedo cosa ne pensi di questo progetto ma io ero sempre propenso a questa cosa ma dobbiamo analizzarla forse un pochettino più profondamente da una parte sappiamo molto bene che c'è questa situazione geografica un po' cattiva per questo progetto perché hai Bolzano al centro che non ha questo interesse di Palamano non ha questo pubblico però è la capitale diciamo poi c'è Merano che ha degli alti e dei bassi però dista in una direzione 35 km e noi 42 km nell'altra per cui tu avrai sempre problemi di avere un centro vero e proprio Bressanone sarebbe il centro della Palamano visto dal lato psicologico da una parte e Bolzano sarebbe quello politico però c'è anche il Merano che non è da dimenticare per cui creare una squadra unica in alto adige serve quando serve veramente per essere sempre in vetta così come la situazione oggi Bolzano è in vetta all'Italia più o meno vince non vince però più o meno può sempre vincere e allora non si sente questa necessità assoluta questa è una cosa l'altra cosa è che si potrebbe partire con un progetto preciso come lo sostiene Bressanone per esempio giocare in una liga internazionale con c'è la Seha League ci sono altre lighe però si potrebbe creare anche un'altra con squadre dell'Austria eccetera dove si gioca come nell'Hockey tra l'altro in campo internazionale e lì avere la presenza della squadra cosiddetta fra virgolette nazionale altrotesina da una parte e dall'altra nel campionato le altre squadre però questi sono progetti molto delicati per cui si deve studiare la cosa profondamente cosa che finora penso non è stato fatto adeguatamente tornando invece al derby di questa sera fra cinque giorni ci sarà il derby che si giocherà a Trieste per la Coppa Italia che chance vedi per il Bressanone vedi il Bolzano ancora sempre favorito? Sì si è visto oggi molto bene quando la squadra del Bolzano ha detto momento calmiamoci giochiamo come sappiamo giocare allora è più forte non ci sono santi il Bressanone ha un vivaio molto interessante giovane quando alla fine i giovani hanno giocato si è visto che hanno grande talento ci sono dei giovani promettenti come i Mitteruzna eccetera però sono ancora un pochettino giovani come dicevo e poi c'è un fatto che abbiamo tre stranieri il Bolzano ne ha 6-7 però si è visto che il numero 7 è Nenadic io l'ho contato perché volevo proprio studiare in questo momento la situazione ha fatto 14 secondo me 14 tiri gol e 4 gol questa è una percentuale troppo bassa e poi la differenza anche oggi l'hanno fatta i portieri con un Matevolarevic che ha preso 22 palloni praticamente ma io qui vorrei ben dire i nostri portieri erano bravi fino al punto che il Bressanone non ha più avuto una resistenza adeguata nella difesa e in questo momento anche il portiere ricrolla quando si vede addosso i giocatori che vengono fino a 6-7 metri questo è logico è normale all'inizio i nostri portieri erano molto forti Ralf io ti ringrazio e ti auguro buona pallamano ci vedremo prossima invece da parte mia volevo farvi un grande complimento perché voi siete veramente l'espressione della pallamano regionale e mi fa piacere che ci sei tu personalmente che ti interessi sempre molto per la pallamano abbiamo proprio bisogno di canali come questo grazie e in Alto Adige ci piace farla semplice come Forst Premium la più easy delle nostre birre Forst la birra dall'Alto Adige Gufo ti stuzzico anche a te Ralf ha parlato di progetto fusione so che se ne è parlato tanto molta gente ne parla magari male informata perché probabilmente anche questo perché ho visto anche delle prese di posizioni i volantini che giravano magari forse tu che stai più dentro la società ci spieghi c'è stato qualcosa so che il Bressanone si è tirato fuori c'è un progetto alternativo sì noi abbiamo fatto diversi incontri con le altre squadre che erano molto interessanti ti posso dire che il Merano sta lavorando per l'anno prossimo per fare la 1 con la squadra propria e questo è il punto della situazione cosa succederà in futuro non si sa mi è un po' dispiaciuto sì perché diciamo hanno iniziato ad esserci in giro voci molto molto vaghe molto strane e ovviamente la gente poi pensa a quello che vuole pensare però noi andiamo avanti così noi lavoreremo in futuro come abbiamo fatto più da adesso sui giocatori del posto sui giocatori giovani e se andiamo avanti a vedere i risultati come o risultati di gioco anche come l'abbiamo visto sabato io sono molto molto contento quindi il progetto Seca League squadra esterna esiste realmente o non lo so devo dire la verità però io non posso dire niente perché non sono informato e da parte del Merano no Lamberto voi siete vicini siete in Trentino avreste la realtà mezzo corona come vedresti una cosa cioè è difficile comunque fare tre società con un blasone con una storia con scudetti alle spalle e farle convivere non è semplice non è assolutamente semplice per tantissimi motivi dal punto di vista organizzativo finanziario almeno parliamo per noi vedrei molto più bene invece collaborazione diventerebbe più semplice e non vorrei essere frainteso essendo sopra in questo momento come serie categoria potrebbe essere un discorso se vuoi fare valorizzare un giovane magari perché noi abbiamo dei ragazzi che sono a mezzo corona dei nostri ragazzi che sono nati da noi e sono nati per loro scelta e senza nessuna nessuna remora perché noi le lasciamo andare dove vogliono e spero che finché io avrò qualche voce in capitolo le cose i ragazzi non sarò mai dell'idea di fermarli perché se uno vuole stare a casa sua volentieri e va bene dopo se uno vuole scegliere altre strade è giusto che sia da noi è molto più difficile anche per una realtà diversa per tanti aspetti non ultimo anche l'area tedesca nel rispetto assolutamente anche se evidentemente ci sono dei costi che non so fosse neanche l'alto adige perché i ragazzi devono essere tutti professionisti per fare una lega così e da noi li contiamo sulle dita delle mani i professionisti ma in tutto il campionato italiano non nel Merano o nel Pressano che sono secondo me le due squadre quasi quasi che si basano soprattutto sul loro vivaio o no? certo ho ragione niente che abbiamo argomento siamo alla top 7 comunque sono discorsi che vanno approfonditi sempre top 7 di questa settimana vediamole insieme beh in porta abbiamo Matte Volarevic l'abbiamo visto determinante e decisivo alle ali abbiamo Martin Sonner MVP del Bolzano lui e Alilcovic hanno spaccato la partita Hannes Guffler per quanto riguarda l'altra ala del Merano premiato anche come MVP nonostante la sconfitta i terzini abbiamo Simone Bolognani del Pressano e Nenadic del Bressanone Alilcovic come pivot Pascal Dantino nel ruolo di centrale sta facendo una stagione strepitosa Pascal Hannes Inerebner come giocatore in difesa adesso in forma l'abbiamo visto in difesa è veramente importante è allenatore Boris Zvorzek del Bolzano era importante vincere il derby e il derby è stato vinto questa è la top 7 un tuo commento Lamberto? assolutamente le altre partite non ne ho viste tante quindi sicuramente Dantino sta facendo un campionato super per noi quindi dire è un ottimo cambio non è vero perché è quello che fa respirare un altro e che dà molto del suo Presto è diventato anche un rigorista coi fiocchi neodottore per cui Bolognani ma i bolognani lo conosciamo quando entra anche adesso ha girato la partita magari per 40 minuti non lo vedi però dopo quando è il momento la sua esperienza tutti gli altri Volarevic non si discute anche se tutte le settimane praticamente si battaglia col nostro San Paolo e quindi ottima Gufo su Gufler sul tuo omonimo sei d'accordo no certo certo anzi ripeto io aggiungerei anche anche pur aver perso aggiungerei veramente qualche giocatore del Merano soprattutto Joe Niglisic Dragan o anche anche Branch Thomas Raff l'ha fatto una partita veramente non li dovrei elencare tutti però avete preso una scelta buona penso Martin ovviamente fa il suo e lo vedo bello in forma fino alla Coppa Italia mi piace vedere Hannah Sinnerim ma che anche lui diciamo pur essendo non più giovanissimo ha avuto un po' di sfortuna nel passato tra degli infortuni però vederlo in forma adesso mi piace vedere Mate sì Mate dipenderà molto da lui la Coppa Italia anche il proseguimento del campionato del Bolzano sì Bolognani e Dantino due giocatori del posto di Bresano anche lì devono essere fieri penso la squadra e Hannes Hannes ha fatto una buona partita ha segnato all'inizio dei gol importanti anche lui sta tirando avanti la squadra del Meranese perfetto siamo arrivati adesso al momento di parlare di giovani abbiamo detto settore giovanile questa settimana non c'è la Champions con Luca Zadra faremo un approfondimento sui campionati giovanili diamo la linea alla pubblicità e poi torniamo con Luca Zadra eccoci il nuovo studio Luca benvenuto buonasera Walter e buonasera a tutti settore giovanile ho detto giusto? esattamente sì era doveroso fare un punto sui campionati giovanili che diciamo raccolgono diciamo sempre la fetta più grande alla fine di atleti dirigenti allenatori della nostra regione ci sono le elite che sono le squadre diciamo di campionati di serie però il settore giovanile è quello che con i numeri maggiori partirei da una piccola parentesi sull'MHC il Mediterranean Handball Championship che si svolge ogni anno in questo periodo a cui ha partecipato la nazionale under 17 maschile erano in 5 gli atleti regionali purtroppo l'avevamo detto anche martedì scorso il nostro Valker si è fatto male altrimenti sarebbero stati addirittura in 6 su 18 un terzo della squadra del Trentino Alto Adige abbiamo delle immagini che possiamo far scorrere dei nostri ragazzi qui sono i due ragazzi di Pressano Fadanelli e Sontacchi di ritorno domenica l'Italia si è classificata al sesto posto quindi esattamente a metà di quello che è stato il campionato del Mediterraneo una bella vittoria con la Tunisia nel placement round una sconfitta risicatissima con l'Algeria nella finale quinto-sesto posto alla fine il bilancio è stato abbastanza positivo soprattutto in difesa in attacco un po' meno non ci sono grandi qualità ancora in fase offensiva però guarda caso mancavano proprio i due giocatori più forti in attacco che sono Bortoli del Cassano che per questioni di Serie A e di impegni con la nazionale superiore under 19 è rimasto a casa e Alex Coppola il grande talento del Bressanone che si è rotto il crociato un mese fa e starà fuori fino alla prossima stagione quindi anche a lui facciamo un in bocca al lupo magari li ricordiamo questi giocatori? sì c'erano Fadanelli sono Tacchi e per il Merano c'era Freund Felix e Guy quindi poi c'era Gabriele Iacemet che è di mezzo corona ma essendo era in Germania a giocare perché fa l'anno all'estero quindi comunque giocatori trentini o altatesini erano in cinque bravi complimenti a loro è stata un'esperienza importante speriamo che si continui a coltivare questa nazionale perché già dall'anno prossimo farà gli europei Under 18 di prima fascia quelli conquistati ad agosto dalla nazionale del bienio superiore quindi è davvero un gruppo da tenere in grande considerazione sperando appunto che rientrino anche i due titolarissimi che secondo me possono davvero dare un tocco in più perché alla fine l'Italia tranne se non sbaglio con la Francia tutte le altre partite sono giocate alla grande chiusa la parentesi MHC diamo un'occhiata alle classifiche giovanili e poi le commentiamo insomma con il presidente Giongo e Guffler che sono due esponenti forse delle due società maschili assieme al Bressanone più fiorenti dal punto di vista giovanile partendo dall'Under 15 femminile guardiamo prima il settore femminile uno splendido campionato Under 15 quello femminile ci sono ben 13 squadre e vediamo il grande equilibrio con Mezzocorona e l'Augen Tissens al primo posto in classifica Mezzocorona che ha una partita in meno quindi potenzialmente al primo posto questo Mezzocorona che dopo il bronzo due anni fa Under 15 e il quarto posto Under 15 dell'anno scorso cerca di nuovo di riconfermarsi tra le migliori Brunico a quota 28 un po' più staccato qua gli scontri diretti faranno la grande differenza passiamo all'Under 17 femminile in vetta anche qui l'Augen Tissens a quota 21 si avvia verso la vittoria del campionato regionale con il Brunico Moisburger che è staccato di 4 punti e deve ancora riposare passiamo all'Under 19 femminile il massimo campionato regionale femminile Brunico a quota 24 ma con una partita in più rispetto al Mezzocorona Mezzocorona che anche qui se la sta giocando alla grande per la prima posizione quindi Mezzocorona che ha fatto anche una scelta diciamo di mollare un po' la morsa nella serie A maschile per concentrarsi più sul settore femminile dato che i risultati negli ultimi anni sono arrivati e lo vediamo insomma è in testa praticamente in due categorie su tre Volevo chiedere a Gufo ho visto su Facebook anche il Merano una squadretta di ragazzine hanno fatto un torneo dove hanno giocato delle ragazzine del Merano sono tanti anni che non c'è più la squadra a Merano Sì adesso non sono informato benissimo però Under 12 è vero? No è bello vedere diciamo al Merano un po' di anni che non si fa la squadra femminile me lo ricordo ancora ma ancora molti anni fa la squadra femminile fa la mano al Merano e vediamo se abbiamo anche la quantità di portare avanti questa squadra sarebbe una cosa molto molto bella anche perché da un paio dall'insediamento della nuova federazione le società che fanno attività sia maschile che femminile hanno dei grossi contributi giustamente e quindi il Merano è stato bravo anche a cogliere la palla al bazzo ci piacerebbe farlo anche a noi però gli spazi lo sappiamo sono quelli che sono adesso speriamo che arrivi questa palestra perché Pressano storicamente l'ha avuto il femminile e ci sono tante ragazzine che militano insomma nelle categorie più piccole dove si gioca misto però da quando poi si arriva all'agonistico purtroppo non possono continuare questo è un grande peccato Merano invece è riuscito a fare questo passo passiamo posso fare un piccolo appunto ma non per assolutamente anzi per valorizzare il lavoro che sta facendo per esempio il Mezzocorona però qualche ragazza ce l'ha ancora di quelli di Pressano che purtroppo non hanno colpe nostre non poteva avere la possibilità di andare avanti e quindi ben venga che sono riusciti a tenerle nell'ambito perché se no vuole dire abbandonare e quindi ben venga e abbiamo siamo ben contenti che possano fare la loro bella figura perché vedo che il settore femminile del Mezzocorona è veramente un anno molto molto interessante e molto positivo passiamo al maschile vediamo le classifiche del maschile partendo dall'under 15 under 15 piccolo inciso ieri sono uscite le circolari riguardo alle finali nazionali anche quest'anno si andrà a Misano con il festival dal 2 al 7 luglio finali nazionali under 15 maschile obbligo di partecipazione per la squadra campione regionale quasi sicuramente adesso a scanso di cataclismi il Merano si possono iscrivere anche la seconda e la terza classificata poi ci sarà anche un torneo open per le non campionesse però anche quest'anno a Misano ci sarà una grande bella fetta per i più giovani qui vediamo la classifica Merano saldamente in testa assieme all'Innsbruck Tirol che è fuori classifica quindi non conterà poi nel conteggio per le finali nazionali Bressanone staccato di 4 punti con anche una partita in più quindi il Merano può adesso deve praticamente gestire fino alla fine grande battaglia dietro poi per la terza piazza che è quella alla fine che conta per andare alle finali nazionali questa è l'Under 15 maschile Under 17 maschile campionato un po' asciutto quello dell'Under 17 Bressano in testa saldamente 9 vittorie 9 incontri a punteggio pieno ha vinto i due scontri diretti col Merano ha vinto Bressanone adesso c'è l'ultima partita della prima fase a La Vis contro il Bressanone con una vittoria sarebbe praticamente ipotecato il titolo regionale poi ci saranno le ultime cinque partite di seconda fase questa è la situazione quindi in Under 17 andiamo a vedere l'Under 19 qua la situazione più equilibrata Bressano in testa un'unica sconfitta quella subita a Merano due settimane fa di tre reti ed ora ci sarà la resa dei conti tra virgolette a metà marzo con la partita fra Bressano e Merano a La Vis match assolutamente da seguire sarà come una finale con Bressano che con una vittoria sarebbe quasi matematicamente campione regionale Merano che dovrà vincere con più di sei reti di scarto per superare Bressano comunque alla fine lo vediamo tutti gli anni o Merano Bressano negli ultimi 5-6 anni Bressano e Merano sono sempre rimaste lì a battagliarsi i titoli regionali sperando poi di fare due belle finali nazionali con la 17 e la 19 assolutamente ma comunque questo non ci dà altro che motivo di essere prima di tutto contenti e di vedere che il lavoro fatto da tutti i nostri tecnici da tutti i collaboratori sta portando i frutti come negli scorsi anni anche perché ripetersi non è così facile non è che c'è scritto perché siccome l'anno scorso è andata bene deve andare bene anche quest'anno vale per tutte le categorie però assolutamente se non avessimo non potremmo fare niente e chiaramente serve anche la prima squadra per dargli stimolo a questi ragazzi e vedo che l'ambiente cresce ma tutti assieme fanno delle belle cose poi c'è l'Under 21 che è un campionato strano è un po' in stand by perché farà la seconda fase a fine aprile e poi la final 12 finale a 12 a fine maggio è guffo sicuramente può dirci qualcosa di più adesso ci sarà questa fase intermedia a fine aprile dove praticamente si qualificano tutte e il Merano è già proiettato per la finale a 12 di fine maggio sì anche loro stanno facendo hanno fatto delle belle partite devo dire per quello io sono molto molto fiero anche di poi spero anche e fiducioso di vedere questi giocatori o alcuni giocatori già l'anno prossimo della prima squadra per darci una mano e penso che sarà molto molto interessante la fase finale ecco noi siamo veramente in chiusura visto che si è accesa la lucetta del time per cui io vi ringrazio grazie di essere intervenito Gufo grazie grazie anche per la tua sportività e per aver raccontato come in maniera serena quello che è successo negli ultimi secondi no grazie di invito in bocca al lupo per il proseguo presidente grazie del tuo intervento in bocca al lupo per il proseguo a partire già da venerdì grazie a voi grazie a voi e mi associo a quanto detto prima a Ralph De Jacopo è veramente la trasmissione da ammirare per l'impegno che fate e quindi per portare avanti lo sport della Palamano nel Trentino e anche in tutta Italia perché vedo che ce la invidiano anche in tanti in giro per l'Italia ti ringrazio ovviamente giro i ringraziamenti a Luca in primis che è la nostra spalla che ci dà una mano ma a tutti coloro che ogni settimana contribuiscono alla realizzazione della nostra trasmissione grazie ancora Luca grazie Walter speriamo di essere qui martedì prossimo con una o tutte e due le coppe che sia il Bolzano il Bressanone o il Bressano che la vince ma una delle tre almeno che la mantenga in regione quanto meno ecco io ovviamente appunto ringrazio veramente tutti coloro che ogni settimana sono sui campi o qui in regia o dietro le telecamere e contribuiscono alla realizzazione di Hamilton e le amiche e le amici della Palamano da appuntamento tra sette giorni qui su RTTR ciao ciao a tutti e alla prossima in collaborazione con Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti